Ci sono tanti bambini che non possono fare sport perché sono più poveri rispetto ad altri che sono più ricchi E il mondo acqua chiara mette a disposizione le loro strutture, le loro piscine, al frullone, il divertimento dei bambini è la cosa più bella che ci possa essere Non sprechiamo soldi, facciamo una cosa importante, a noi c'è una forza del sorriso di un bambino, ciao Quando si parla di sociale acqua chiara si pone sempre in prima linea, acqua chiara farà anche in questo caso la sua parte devolvendo il 50% delle risorse economiche Che serviranno per un eventuale pagamento di abbonamenti annuali per la pratica dello sport E poi chiederò ovviamente il supporto di tutti i cittadini, al buon cuore di tutti i cittadini di fare la loro parte Ovvero di donare il rimanente 50% per completare, per raggiungere questo importante obiettivo Quindi vi invito ad andare sul sito meridonare.it a fare effettuare la vostra donazione per una buona causa Aiutateci ad aiutare